Un faccia a faccia con la stampa regionale. A domanda, risposta. Così il governatore della Calabria, Mario Oliverio, fa il punto sul suo mandato e sceglie la location in cui esattamente un anno fa, in piena campagna elettorale, sedeva con Vandaferro. Se non mi avesse portato fortuna esordito, non sarei ritornato. In Calabria messo in chiaro Oliverio è richiesta un'opera radicale di cambiamento, non facile perché va costruito su una macchina che è in corsa e c'è il rischio che si blocchi. Entro il primo anno di attività in ogni caso abbiamo intenzione di presentare risultati concreti. Il Presidente ha concentrato parte del suo intervento anche alle questioni relative al porto di Gioia Tauro, esprimendo un impegno non formale ma sostanziale, ha detto. Non a caso ha nominato un assessore con delega specifica. Stiamo lavorando per la ZES, ancora Oliverio, e il 1 settembre avremo un incontro con Del Rio per l'intermodalità, in modo da fare di Gioia Tauro un'infrastruttura al servizio del Paese e dell'Europa. E con Renzi? Rapporto positivo, ha dichiarato Oliverio. Sulla giunta di tecnici ci tiene a rimarcare le ragioni della loro nomina, che risiedono nella necessità, puntualizza, di dare in questa fase il segnale di una forte azione di cambiamento. Questo però non significa mettere in soffitto la politica messo in chiaro il Governatore. Presidente, si avvicina alla ripresa dell'attività istituzionale dopo la pausa estiva, ma sembra sempre più difficile capire quali saranno i nuovi equilibri all'interno del Consiglio regionale targato Nicola Irto. Piovono critiche da quasi tutte le forze politiche di maggioranza per l'eccessiva penalizzazione del ruolo dei consiglieri a favore di una giunta rinnovata di soli assessori esterni. Cosa ci dice in merito? Non mi pare che ci siano giudizi che piovono da parte dei partiti della maggioranza. Anzi, c'è stato un Consiglio regionale che ha visto una maggioranza compatta, che ha espresso una valutazione e un giudizio positivi. Persino la minoranza su questa giunta ha praticamente espresso un giudizio di cautela, dicendo che valuteremo dai fatti senza esprimere giudizi a priori. Quindi mi pare che sulla giunta il giudizio è largamente positivo. Le ha mantenuto la delega al turismo. Come si intende operare in questa direzione, visto che la Calabria ha forti potenzialità, però non riesce ancora a raggiungere quei numeri importanti che la proietterebbero in una posizione ottimale, proprio per decollare da questo punto di vista? Bisogna investire molto in questo settore. Non mi pare che sia un problema di assessori, tant'è che quest'anno, luglio, agosto ancora non abbiamo i dati, luglio dopo sette anni, che sono stati anche sette anni con assessori, con delega, eccetera, eccetera, per la prima volta c'è il segno più. C'è una ripresa in Calabria della presenza turistica. Naturalmente non è questa presenza frutto del fatto che ho mantenuto io le delega, ci mancherebbe altro, sarebbe sciocco. Questo a riprova del fatto che c'è da investire sulla immagine della Calabria, sui servizi in Calabria, sui collegamenti tra la Calabria e il resto del paese, d'Europa e del mondo anche. Bisogna investire perché siano intercettate le domande e i flussi turistici. Questo è il nodo sul quale dobbiamo lavorare e sul quale noi metteremo all'opera un gruppo di tecnici, di esperti che sarà sicuramente di ausilio perché il turismo possa beneficiarne. Naturalmente lo faremo con il concorso degli operatori turistici perché è importante coinvolgere gli operatori turistici, chi il turismo lo fa, lo pratica e con il miglioramento del contesto territoriale perché la prima forza di un'attrazione turistica è la capacità di offrire contesti che siano attrattivi e in questo senso la Calabria può fare molto perché la Calabria non ha nulla da invidiare ad altre realtà del paese. Con gli 8 milioni di euro però a favore della depurazione non hanno prodotto risultati positivi visto i dati puntuali di legambiente, il monitoraggio di legambiente sul mare della Calabria che è stato bocciato. Devo dire che l'hanno prodotto qualche effetto positivo perché in pochi mesi noi non si poteva pensare che cancellassimo quello che sono i ritardi di anni. Un annoso problema. C'è stata una riduzione quest'anno dei punti di divieto di balneazione, i dati sono questi, naturalmente bisogna fare molto ma molto di più perché recuperare ritardi enormi che sono stati anche denunziati opportunamente da legambiente significa agire per rimuovere le cause strutturali, per rimettere a posto impianti, realizzarli laddove non sono stati mai realizzati, agire per colpire l'abusivismo perché ci sono come anche ha detto legambiente scarichi ammari abusivi e bisogna colpire senza guardare in faccia nessuno e questo faremo e faremo con sicuramente ulteriori risultati nei prossimi mesi senza aspettare la stagione estiva ma già nei prossimi mesi. La prima azione dopo la pausa? Come? Il primo provvedimento che prenderete dopo questa pausa estiva? Il primo provvedimento è quello di costituire una task force per i problemi del territorio perché noi abbiamo avuto una tragedia che è stata quella ultima di Rossano e di Corigliano che ha riacceso i riflettori su questa vicenda e non aspetteremo altre, bisognerà agire perché ci sia un'azione attiva di ripulitura dei fiumi, di attenzione per la manutenzione e la cura del territorio.